Il prossimo 30 novembre leader politici da tutto il mondo si incontreranno a Parigi per iniziare i negoziati per il prossimo accordo sul clima. Per questo il giorno prima, domenica 29, in tutto il mondo associazioni, movimenti ambientalisti, semplici cittadini scenderanno nelle piazze e nelle strade per chiedere ai rispettivi rappresentanti di impegnarsi a rinunciare all'energia inquinante e a raggiungere il 100% di energie pulite. Ed anche Napoli sarà in prima linea in questa battaglia. Dalle 10 di domenica, infatti, in piazza del plebiscito il mondo dell'associazionismo e del volontariato locale si è dato appuntamento per la manifestazione in marcia per il clima con la musica, la poesia e la forza dell'arte organizzata dall'associazione delle tre ghinee nemesiache. Non una vera e propria marcia, ma l'alternarsi di performance di arte varia che culminerà con un flash mob e con la graduale scoperta sul suolo della piazza di un sole giallo su campo azzurro, il colore scelto per caratterizzare l'evento in tutto il mondo. Occorre che tutti prendano coscienza, che tutti, tutte le persone, donne, uomini, persone sensibili a quello che è il futuro dei propri figli e dei propri nipoti, prendano coscienza, siano consapevoli ed attuino ciascuno per quello che può, per quello che è in grado di fare, tutte le norme di comportamento, ma soprattutto si liberino mentalmente da tutto l'inquinamento che c'è, perché c'è innanzitutto un inquinamento mentale. Anche i popoli sono inquinati, tutto è inquinato, quindi è tutto collegato. Il cantautore Rino Blandizzi, il quartetto d'arche Onda Nueva, la ballerina coreografa Cinzia Fimanò, le scrittrici Esther Basile e Rita Federico, la pittrice Noemi Ricciardelli, le attrici Clara Bocchino e Chiara Paraggio, questi sono alcuni degli artisti che domenica offriranno il loro contributo gratuito all'iniziativa. Per quanto riguarda l'evento ribadisco, c'è sia un'espressione di persone e di artisti, a livello musicale, a livello poetico e a livello gestuale e in più ci saranno presenze silenziose e questo è stato proprio inserito a significare la liberazione della mente e l'invio di messaggi con onde, vibrazioni positive verso la luce e l'armonia. Previsti anche interventi di esperti sulle tematiche relative alla crisi climatica ed ambientale di padre Alex Zanotelli e di Elena Coccia, vice sindaco della città metropolitana di Napoli, che insieme al Comune patrocina l'iniziativa. Partecipare a questa iniziativa il 29 a Piazza Plebisciti opportunamente dare l'adesione della città metropolitana è uno dei compiti fondamentali della città metropolitana, soprattutto in considerazione che proprio ieri abbiamo approvato il PEG dove sono stati posti molti milioni per le coste, per il verde, per la prevenzione dei disastri ambientali e quindi noi riteniamo che questo sia un compito prevalente.